Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un video sbroxing. Esatto ragazzi, prima di tutto ci teniamo a dirvi che ad agosto rallentiamo un po' anche noi, andiamo in ferie. Più che altro ci teniamo noi a rallentare, più che ci teniamo a dirvi. Esatto, quindi faremo due video a settimana, il mercoledì e la domenica o il mercoledì e il venerdì decideremo. Sicuramente il mercoledì, il resto ve lo faremo sapere. Lo facciamo sapere ma tendenzialmente sarà a metà settimana, quindi mercoledì sicuro e l'appuntamento probabilmente verso fine settimana, quindi probabile domenica. E secondo, quando pensi di aver provato tutto, quando ormai gli unboxing o le cose tech non ti danno più quel gusto di scoperta, poi arriva, quando ti senti arrivato sotto un certo punto di vista, poi arriva sempre qualcosa che è... Arrivato a quell'azienda che te lo tira fuori, così, sul tavolo. Cambia la veste ma non cambiano le offerte e anche per il 2021 ci accompagna WhoKeys. Su WhoKeys potete trovare chiave di software, sistemi operativi e giochi, a partire da Origin, Steam, Uplay e perché no, anche PlayStation. Non cambia neanche il nostro codice sconto per software e sistemi operativi. Ad esempio, inserendo PD20 a carrello per l'acquisto di Office 2016, ricevete il 20% di sconto. Oppure, la classica chiave di Windows 10 Pro o IEM sarà sempre disponibile a 10€. Vi basterà quindi inserire il codice sconto, selezionare PayPal come metodo di pagamento e il gioco è fatto. Ma ora, torniamo al video. Oggi non è un titolo clickbait, non è un titolo proprio per niente. Perché è una cosa così, non l'abbiamo mai vista. In esclusiva italiana, perché è un'esclusiva italiana, vi facciamo vedere la cosa più figa che abbiamo mai unboxato e l'unboxing più figo che abbiamo mai visto e abbiamo mai fatto da quando seguiamo il tech. Sarà complicato. Pesa una tonnellata. È ingegnerito, porco giusto. Ma fammi sentire se pesa un contatto. Ma no, non pesa. Ma sto facendo scena, è per lo spettacolo, fighimi. Beh, non posso dire che è leggero. Questa cassa da morto non è una cassa da morto. Esatto. Spoiler. Ragazzi, è legno vero. Legno vero ver... Perché è un bambino. Legno vero verniciato. Intel è qualcosa di assurdo con i kit stampa, perché questo dubito che sia la confezione di vendita. Dubito. Non ci metto la mano sul fuoco, però, perché potrebbe anche essere, per il modello con l'i9. Me lo confermerai, commenta Intel qui, qui sotto, ci sono i commenti per te anche. C'è un carrellino, ragazzi. E tira fuori. Madonna anche il Nook, cosa pesa. Ed è presente il nuovo Nook. Vabbè, questo è il cavo di alimentazione. Mamma che profumo di legno. Non so che noi siamo fissati con gli odori. Dovremmo poi mandarvi qualcosa che... La chiamiamo... Facciamo una rubrica sugli odori. Quando è arrivato ho detto, cos'è sta roba che bisogna... No, ma poi... Una tonnellata. È devastante. Aspetta che lo chiudo così, con la forza di gravità. Olè! Cioè, rendetevi conto di quanto è grosso sto coso. No, ragazzi, è stupendo, veramente. Al di là del prodotto che... Ovviamente con il lunghino anche sul fronte, il bel teschietto del Nook. No, ragazzi, straipitoso. Questa la metto qui. Questo ve lo facciamo vedere settimana prossima nel dettaglio. La sedia. Mi sono disediato. Ma io parlerei nel dettaglio perché è stata una grossa settimana di novità. Una giga settimana. E vi racconterei sinceramente quello che pensiamo delle novità uscite. Questo stiamo facendo i test, non abbiamo ancora finito. Lo so che alcuni americani sono già usciti. Noi purtroppo non siamo riusciti a finirlo in tempo. Stiamo ancora testando alcuni videogiochi per fare bene i test. Questa è la versione con i 9.30.60. Questa è la versione con i 9.30.60. E c'è l'altra versione di Nook, sempre lo stesso, sempre identico. Solo che con il modulo, con gli i7 al posto dell'i9. Che sono, se non ho capito male... Qualche gp a manetta. Dovrebbe... Sì, ovviamente. Anche il teschio qua davanti non si vede niente, ma c'è il teschio che si illumina. Ve lo facciamo vedere con qualche ripresa un po' meglio. E sembra a tutti gli effetti un UPS. È vero? Un gruppo di continuità. No, a parte gli scherzi. Molto molto bello. Oltre alla 30.60 che c'è dentro, che è un modello Asus biventola, non troppo grande. Ma noi ci metteremo dentro una 30.90? No, 30.90 no. Però... Qualcosa ci proviamo a fare. Una 30.80 ci sta. La 30.80 dii ci sta. Al di là del Nuke, che è stata sicuramente una delle novità di Intel di questa settimana, che tra l'altro è anche più apprezzata, ma perché io sono malato, quindi mi piace. No, è un bel prodotto. Non è sempre stato bello il Nuke. Anche quello dell'anno scorso era un bel prodotto. Ero rimasto... Troppo costoso. Esatto, ero rimasto un po' con l'amaro, perché avrei voluto qualcosa... Avrei voluto che continuassero col concetto dei moduli e l'hanno fatto. Quindi per quello tanta roba. E anche con i prezzi sono migliorati, ma ne parleremo meglio nei prossimi giorni. E perché tutti gli altri sono elevati talmente tanto che questa cosa, appunto, sembra comunque una meraviglia. Non è... Anche i prezzi dell'anno scorso a questo momento, era una roba meravigliosa. Però non è stata l'unica cosa che ha fatto tanto parlare di Intel in questi giorni. Al di là, è stata annunciata ufficialmente la 6600 XT DMD, scheda per il 1080p, quoda HD a quasi 400 euro. No, senza quasi. Non ci sono founders, quindi tu comprai la 6700 XT dal tuo sito a meno di quanto venderai la fascia bassa in giro. Quindi stendiamo il velo pietoso questa mossa MD. Neanche un video merita questa situazione, veramente. Io non ho parole, sinceramente. Non approfondiamo. È uscita una novità di Intel per quanto riguarda le fab. Quindi tutto il sistema per cui gli aggiornamenti sui nuovi processi in divenire da qua al 2025 e anche oltre. Infatti, perché Intel ha disegnato davanti a sé una bella strada, ha fatto quello che ci aspettiamo ogni tanto dalle aziende grandi come Intel, ovvero dare agli utenti una roadmap di quelle che saranno... Per cui gli utenti e gli investitori. Agli investitori, ma anche a noi interessa, perché giustamente ci interessa, per cui anche a noi utenti, un'idea di quelli che saranno i prossimi anni da parte di Intel a livello produttivo, quindi quelli che saranno i prodotti, più che i prodotti, i processi che monteranno sui prodotti e le novità, da quel punto di vista lì, e dare appunto un percorso seguito da adesso in poi, con tutti questi nuovi processi che Intel ha voluto dare, ha voluto chiamare in modi differenti. Ma prima di tutto facciamo un sunto, perché questo, secondo noi, è un anno zero per Intel. Da qua è una nuova Intel e da prima c'è stato quello che c'è stato, Intel viene da degli anni che definire disastrosi è poco. Si è salvata dal punto di vista dei numeri di fatturato, quindi Intel è grossa, è cresciuta, perché il settore è cresciuta, ma non è cresciuto quello che ha proposto sul mercato. Ha preso un po' di sberle ovunque, da Apple che l'ha lasciata lì perché non innovava a livello di performance per watt, infatti ha cambiato proprio completamente tipologia, Apple chiedeva qualcosa tipo l'M1 da anni a Intel, e Intel non è riuscito a fornirlo per i problemi appunto che ha avuto questi anni con i processi produttivi, dalle sberle di AMD l'opera. Infatti, perché è innegabile che anche AMD in questi anni, da quando è stata lanciata la prima generazione di Ryzen, ha dato belle legnate a Intel, rosicchiando anno per anno copertura di mercato in generale con i suoi prodotti, quindi ha preso sberle anche da AMD. Poi di fatto, nell'anno della pandemia, dove tutto il settore è di forza cresciuto, Intel è quella che è cresciuta di meno. Ovviamente era anche la più grossa, però ci sta che è quella che è cresciuta di meno. Poi, ovvio, l'impressione è che Intel è un'azienda da 70-80 miliardi, è come l'impero romano, non cade dall'oggi al domani, ci sono anni per un'azienda di declino. Intel vuole porre fine a questo declino, che non è tanto di numeri, ma è più di prodotti, innovazioni, idee, perché di fatto, se pensate che tuttora il prodotto Intel dell'anno scorso, che c'è stato fino a giugno, scusate, fino a aprile, non presentava neanche il P64, perché c'era su delle console, E questa cosa è una cosa che abbiamo criticato parecchio. Ragazzi, Intel aveva dei prodotti che erano, a livello tecnologico, più inferiori rispetto a delle console che montavano la concorrenza. Cioè, ragazzi, capiamo che siamo arrivati a un punto di un ritorno, in cui o ti muovi, o in giro di qualche anno vieni divorato. E in te si muove. Finalmente. Mi viene da dire finalmente, perché fino ad adesso siamo stati molto critici nei confronti dell'azienda, quindi ci sta. Però questa roadmap mi piace. Innanzitutto, insieme agli investimenti giganteschi, in due fabbriche in America, una in Europa, si è parlata addirittura d'Italia, e sarebbe una cosa fantascientifica. No, sì. Però già un stabilimento in Europa, di questo livello, di un'azienda di questo livello, sarebbe un gran cambiamento. Sarebbe una bella roba, sinceramente. Per il mercato, e anche questa è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte, che in Europa noi non abbiamo praticamente niente. Abbiamo un piccolo, piccolissimo fettino di tutto il quartiere. Abbiamo Infineon e ST. Stop. ST, tra l'altro, è anche in parte italiana, quindi unica cosa buona. Però abbiamo queste due. Noi siamo letteralmente tagliati fuori dal mondo della tecnologia. Cioè, veramente, sono numeri economicamente giganteschi. Non abbiamo... abbiamo pochissimo rispetto al fatturato mondiale. Per non parlare... Vabbè, se lasciamo anche il mondo del gaming, uniamo questa cifra, la Francia si salva, un po' la Germania, però il resto poco niente. Ma non solo le fab. Ma non solo le fab. È stato liccato che le nuove schievi video verranno presentate ufficialmente al CS22, quindi abbiamo anche quasi una data, una conferma, e in questi mesi sarà sempre più forte. Un po' di amaro rimane, perché dovevamo vederle già quest'anno, le GPU Intel. E in un certo senso le abbiamo anche viste, per gran modo di dire. Rimane comunque un prodotto che io non aspetto per me. Perché è un prodotto che avrà problemi di gioventù, perché è normale. Sicuro, però io... Come i primi Ryzen. In ogni caso, al di là del fatto che non abbiano esperienza sulle GPU discrete, esperienza sulle GPU ne hanno. Sì. Da anni. Cioè, è un'esperienza decennale, come dice qualcuno, dei nostri amici. In generale, quindi, non mi aspetto che facciano cagare come un'azienda che entra in questo mercato e fino all'anno scorso faceva patatine fritte. Però, rispetto... Cioè, è ovvio che, secondo me, un'architettura così nuova, così innovativa, tutti i problemi di driver che ci possono essere, secondo me, problemi di gioventù è la cosa più normale al mondo. Certo, certo. Che possano dire la loro sul mercato, su una certa tipo di fascia, posso essere d'accordo, però rimane qualcosa che, a me, entusiast, non l'aspetto devastantemente... Non l'aspetto... L'aspetto come novità... Come passione. E va bene, ok, ci sta. Quindi, quello è assodato, perlomeno dai leak che sono usciti, sapremo nel CES 2022, quindi gennaio 2022, i primi giorni di gennaio del CES, quando potremo effettivamente vedere queste BG2 fantomatiche, in generale. Oltre a questo, però, a fine anno è quasi dato per scontato al 100% che verranno presentati nuovi processori, anche. Esatto. Che portano una ventata di novità bella grande. C'è più novità in questa nuova generazione Intel che negli ultimi nove anni. Infatti. Abbiamo nuove... Abbiamo una piattaforma completamente nuova, l'architettura BigLittos X86, che è la prima volta che si vede. Abbiamo il nuovo processo produttivo, che è 10 nanometri, che non è mai stato utilizzato, anche qua, poi parleremo di nanometri dopo. Adesso, tamattimo. Che, appunto, non c'entrano niente, che, anche se ai 10, non dovete fare il paragone 10 nanometri, 7 TSMC è meglio 7. No, perché 10 nanometri è uguale, se non migliore, del 7 nanometri TSMC. Oltre a questo, però, le novità della piattaforma portano anche nuovi standard, quindi PCIe 5, le RAM nuove DDR5, quindi ci sarà tutta una serie di implementazioni nuove su questa nuova piattaforma, che è in uscita, o comunque presentata, uscita, vedremo. Entro fine anno. Entro fine anno, che è davvero da aspettare. Poi, il discorso di prenderla o non prenderla, ve l'abbiamo già fatto più volte nei giorni scorsi, sicuramente al lancio non converrà, quindi vedremo un po' come andremo a posizionarci a livello di mercato. Però, un punto rispetto, capite che Intel ha già cambiato faccia. Esatto. Noi, negli ultimi mesi, se non nell'ultimo anno, quanto abbiamo parlato di Intel, ragazzi? Nei discorsi sul canale Telegram, delle discussioni e così, quanto si parla di Intel ultimamente, è sparita un po' dai radar. Eh sì. Cioè, diciamocelo chiaramente, adesso ci ritorna pesantemente, anche perché la cosa che l'ha limitata di più, ovviamente a quanto sembra, perché ovviamente non possiamo saperlo, che è i processi produttivi, quindi la stagnazione del processo produttivo, il fatto che non riusciva a migliorarlo, sembra essere superata con una roadmap veramente interessantissima, fino al 2025, che porta Intel non solo a produrre roba per loro, ma a vendere, come fatti SMC, i propri spazi produttivi alle altre società, tra cui Qualcomm è già il cliente, Qualcomm che fa il Snapdragon, che vende una fraccata di processori l'anno, di SOC, scusate, perché non sono processori. Tanta roba, sinceramente, e miglioramenti ai produttivi, tra l'altro slegati dai nanometri, perché giustamente, come abbiamo detto, non è un termine di misura definitiva, che va a 7, va così, 10 va... No, esatto, è proprio il concetto che è sbagliato, cioè si è trafugata questa parola nanometri, perché detto di fatto è un'unità di misura, però non è più quello che rappresentava prima, magari qualche anno fa, quindi non è più semplicemente il nanometro, quindi il transistor è più piccolo, quindi le prestazioni sono migliori, l'energivolità è minore, eccetera, eccetera. È tutto un altro concetto, le ottimizzazioni sono, e lo abbiamo visto anche in questi anni, soprattutto con il testa a testa di processori, non vanno più solo sui nanometri, vanno su tutta un'altra serie di processi. E con la conferenza di qualche giorno fa, Intel appunto ha dato una segata a sta storia dei nanometri, chiamando le sue architetture, da quella 10 nanometri che uscirà con la prossima generazione, a quelle future, fino al 2025 e oltre, se non sbaglio, Intel 7, Intel 4, Intel 3 e Intel 20A, 20A e Intel 20A. Questo sia per una questione di marketing, perché non puoi stare sotto a quello del tuo competitor, perché il TSMC è già a 5 nanometri in vendita su smartphone, tablet, principalmente su Apple e pochi altri, adesso arriverà ancora più al 3 nanometri, tu sei ancora i 10, io avvio che devi mettere le cose in pari, quindi c'è soprattutto anche un discorso di marketing. Però comunque le novità, sia con la litografia UV, sia con il nuovo sistema Ribbon, che uscirà fra 4-5 anni, che è una novità completa nel settore, va a cambiare totalmente tutto, è una cosa che sinceramente ci fa piacere, e secondo me è un po' come l'annuncio del primo Ryzen. Cioè lascia... La buttata? Esatto, la buttata, e lascia quel senso di un futuro più roseo, un futuro migliore, e già ben inquadrato tra le altre cose, quindi non più cose un po' a caso, vediamo di anno per anno come migliorare i processi, ma con già una bella idea in mente. Quindi Intel da qua, ai prossimi anni, sarà parte integrante di questo settore, e non sarà più una comparsa. Con un AMD che vuole far bene, con un NVIDIA che giustamente è sempre leader in quello che fa nel GPU, ma è un AMD che vuole far bene per tutte e due le parti, secondo me ne vedremo delle belle, tirandoci via anche con questo aumento di investimenti nelle fabbriche, questa situazione di introvabilità di componenti, o vendita di schede video del cavolo a 400€, che praticamente ci portiamo dietro ormai più di un anno. Quindi ragazzi fateci sapere cosa ne pensate, questa è veramente una delle cose più belle che io abbia mai visto. No, io credo che sia il kit più bello che ci sia mai arrivato. No, il kit stampa più bello di simbile ha mani bassissime. Poi te che le... Perché noi non è che ne abbiamo ricevuti milioni di kit stampa, però tu in Tom's ne hai visti un miliardo. Sì, infatti, per te lo dico, è spettacolare, cioè non ho mai visto una roba del genere, giuro. No, ragazzi, cioè poi il legno, il legno. La cosa divertente è che quando il Corriere lo ha portato, io sapevo che doveva arrivare il Nook, ovviamente, qua, da me, quindi quando l'ha portato e mi ha consegnato sto scatolo che era grosso come una lavatrice, ha detto che cazzo, ma il PC è grosso così? Cioè che cazzo c'è qua dentro? Eh, ma che cosa fa? Quindi, visto che le informazioni sono tante, le notizie sono state tante, non ne abbiamo ancora parlato, le abbiamo fatte in questo video, fateci sapere la vostra qua sotto nei commenti, trovate tutti i link qua sotto in descrizione per i nostri social, tutto quello che volete, eccetera, eccetera, e noi ci vediamo... Alla prossima, ma ve lo faremo usare, ragazzi. È legno. È legno verniciato. No, il profumo è buonissimo. Tutti dè. È buonissimo. Ah, ma è ronco. Ma è ronco. Sentirai.